Guardate! Un aquilone! Ma no! È un aereo! No! Arriva Lucilla! Yeee! Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino di Cristina? Dentro c'è un biscottino, dentro c'è un biscottino che ha mangiato a colazione stamattina Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino di Cristina? Dentro c'è un biscottino, dentro c'è un biscottino che ha mangiato a colazione stamattina Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino di Nicola? Dentro c'è un tortellino, dentro c'è un tortellino che ha mangiato al suo ritorno dalla scuola Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino di Nicola? Dentro c'è un tortellino, dentro c'è un tortellino che ha mangiato al suo ritorno dalla scuola Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino di Zia Brenda? Dentro c'è un formaggino, dentro c'è un formaggino che ha mangiato alle quattro per merenda Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino di Zia Brenda? Dentro c'è un formaggino, dentro c'è un formaggino che ha mangiato alle quattro per merenda Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino di Serena? Dentro c'è un involtino, dentro c'è un involtino che ha mangiato questa sera come cena Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino di Serena? Dentro c'è un involtino, dentro c'è un involtino che ha mangiato questa sera come cena Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino? Cosa c'è nel pancino di Susanna? Dentro c'è la camomilla, dentro c'è la camomilla che ha bevuto prima di fare l'anana Ciao bambini! Vi è piaciuto questo video? Allora mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale per non perdervene neanche uno! Seguitemi anche sul mio sito web lucillakids.com e inviatemi i vostri messaggi e i vostri disegni su Facebook e Instagram! Vi aspetto numerosi! Ciao ciao! Ciao ciao!